Sarà l'Avezzano la prima avversaria della Cesena nel nuovo campionato di Serie D che parte domenica 16 settembre. Nuovo format a 20 squadre e tanti, 7 turni infrasettimanali che renderanno il torneo ipercongestionato. Calendario svelato ieri con la prima giornata che verrà subito il derby al Valle Anzuca tra il Francavilla e il Pineto. Una sfida che metterà di fronte due formazioni che hanno ambizioni importanti, così come la Vastese che invece esordirà a Matelica, seconda nello scorso campionato alle spalle della promossa Vispesaro. C'è attesa anche per vedere il Giulianova che invece avrà la prima in trasferta al Civitelle di Agnone. Trasferta a Marchigiana a Castelfidardo invece per il San Nicolò Notaresco. Nessun derby alla seconda di campionato ma al Mariani Pavone, occhio perché arriva il Matelica, altro banco di prova per la squadra di Daniele Amaolo. Il primo torno infrasettimanale alla terza è il 26 settembre. Il Pineto a Forlì, l'Avezzano ospita il Castelfidardo, il Giulianova a San Mauro Pascoli contro la San Maurese. Trasferte anche per Vastese a Monte San Giusto e San Nicolò Notaresco ad Agnone. Doppio derby abruzzese invece alla quarta. Alfadini va in scena a Real Giulianova a Avezzano mentre all'Aragona di Vasto arriva il Francavilla. Due gare dal clima molto differente. Ci sarà grande rivalità nell'impianto giuliese. Forte invece il legame tra Vastesi e Francavillesi. Francavilla e Giulianova che si incroceranno la settimana successiva in una sfida tutta giallorossa mentre il San Nicolò Notaresco va ad Avezzano. Ultima, diciannovesima a ridosso di Natale. Domenica 23 dicembre infatti c'è il giro di Boa e sarà una domenica super. Al Manuzzi dice Sena di scena è la Giulianova che chiude il girone d'andata nello scenario più prestigioso mentre a Pineto c'è l'Avezzano nel giorno in cui la Vastese riceve l'Olimpia agnonese. Il Francavilla va sul campo della Savignanese e il San Nicolò Notaresco ospita il Sant'Arcangelo di Emanue il Cascione. Poi pausa fino al giorno dell'Epifania quando riparte il girone di ritorno che si concluderà il 5 maggio prima dell'appendici playoff e playout. Come detto previsti sette turni infrasettimanali. 14 novembre, 12 dicembre e 18 aprile per tutti e nove i gironi. 26 settembre, 24 ottobre, 16 gennaio, 13 febbraio per i gironi a 20 squadre. Due le soste, la prima il 30 dicembre per le festività natalizie, la seconda il 10 marzo per la partecipazione della rappresentativa di Serie D al torneo di Viareggio. Il girone di andata, come detto, terminerà il 23 dicembre, mentre la stagione è regolare il 5 maggio. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15, dal 28 ottobre inizieranno alle 14.30 per poi tornare sempre alle 15, dal 31 marzo. Dal 12 maggio si passerà alle 16, un solo posto al netto dei ripescaggio estivi in palio per la prossima Serie C. Le sese sorelle abruzzesi provano a strappare lo scettro alle marchigiane, padrone assolute di un raggruppamento che ha visto vincitrici nell'ordine negli ultimi anni. Bispesaro, Fermana, San Benedettese due volte, Maceratese e Ancona. Un dominio incontrastato che le abruzzesi vogliono spezzare perché è una compagine di casa nostra. Manca l'appuntamento col primo posto dalla stagione 2011-2012, quando il Teramo centrò la promozione tra i professionisti.